Una nuova settimana In compagnia di Tempo d'Estate 10, 45 minuti primi e 35 secondi in questo istante Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana Buon lunedì Saluto, mi vedete con la mascherina Perché abbiamo in studio questa mattina Il nostro direttore Stefano Campanella Buongiorno Stefano, benvenuto Buongiorno a te, anche io con la mascherina Noi siamo ligi al dovere e alla prudenza Assolutamente Intanto Stefano, rimani con noi in studio Perché ci colleghiamo subito Come facciamo quotidianamente Con i nostri inviati Nella chiesa di San Pio da Pietrelcina Do il benvenuto alla collega Anna Maria Salvemini Ciao Anna, bentrovata Buongiorno, bentrovati a voi Anche al direttore Stefano Campanella Io sono senza mascherina Perché intorno a me adesso In questo momento non c'è nessuno Ma accoglieremo un ospite più tardi Perché oggi lo anticipo Ma evidentemente ne parlerai anche tu Paola È la giornata mondiale dei donatori del sangue Capita qualche giorno dopo Il corpus domini Quindi anche questo è significativo Siamo chiamati a donare la vita per gli altri E allora ne parleremo dopo Adesso te la restituisco subito La linea ovviamente E ci ritroviamo fra poco Quando vorrai tu Grazie, grazie Anna Maria Allora torneremo più tardi a collegarci Con la chiesa di San Pio Anche per ricordare questa importante giornata mondiale Ma con il direttore vogliamo ricordare un fatto Una celebrazione che si è tenuta sabato scorso a Budapest Sabato pomeriggio davvero particolare Che lega l'Ungheria a Padre Pio da Pietrelcina A te la parola Stefano Raccontaci che cosa è successo Ebbè sabato pomeriggio Per diciamo propiziare l'intervento divino E accelerare i tempi per la beatificazione del cardinal Minzenti E' stata celebrata una messa Nella cella, il carcere ungherese di Budapest Nella quale il cardinal Minzenti E' stato recluso dal regime comunista E a celebrare la messa E' stato Monsignor Fenech Kessetati Che è l'ausiliare dalla diocesi di Budapest E che fa parte della fondazione Minzenti Ed è significativo questo evento Perché nella cella si trova un'opera d'arte Un dipinto nel quale similmente a quello che abbiamo Nella rampa di accesso alla chiesa inferiore di San Pietrelcina E' riprodotto probabilmente dallo stesso Marco Rupnik Perché lo stile è simile E' riprodotto l'evento della bilocazione di Padre Pio In quella cella per portare pane e vino al cardinal Minzenti Perché i carcerieri Su disposizione del regime comunista Impedivano al cardinale di celebrare la messa E Padre Pio gli portò pane e vino E questa cosa è particolare Perché durante la fase del processo di beatificazione Al cardinal Minzenti Durante l'inchiesta di diocesana Coloro che erano incaricati di raccogliere la documentazione Avevano sentito parlare di questa bilocazione Ma non riuscivano a trovare delle prove Scusami Stefano, ti interrompo un attimo Stiamo vedendo le immagini che sta mandando in onda la regia Questa è la cella Quella è l'opera d'arte alla quale hai fatto riferimento Esatto, si vedono Padre Pio e il cardinal Minzenti Ecco, qui si vede proprio Padre Pio Che consegna il calice e il pane per la celebrazione eucaristica E quindi è significativo vedere questo vescovo ausiliare di Budapest Che proprio celebra e quindi consacra il pane e il vino Lì dove il pane e il vino furono portati da Padre Pio E questo fatto è storicamente accertato dal processo di Padre Pio Per cui la postulazione ha acquisito alcune pagine Dalla posizio del processo di Padre Pio Per il processo di Minzenti dove viene narrato questo episodio Da Angelo Battisti Che è stato, diciamo, colui che ha avuto da Padre Pio la conferma Battisti, lo dobbiamo ricordare Interrompimi quando siamo fuori tempo Era un dattilografo della segreteria di Stato E devoto di Padre Pio A Roma aveva sentito da un sacerdote ungherese Di questa bilocazione di Padre Pio da Minzenti Ma lui non aveva mai il coraggio, Battisti, di chiedere una conferma a Padre Pio Finché un giorno si sentì quasi spinto da una forza interiore Padre Pio lo prese a male parole quasi Dice, mi voleva mangiare Dopo che fece la domanda Padre, ma il Cardenale Minzenti ha riconosciuto Padre Pio Padre Pio si arrabbiò perché non gradiva parlare dei suoi odionimistici Poi però Battisti disse Sai, io questa cosa la so da tanti anni E adesso ho avuto quasi una forza interiore Come se Dio mi avesse chiesto a sua gloria Di ottenere questa sua conferma E Padre Pio rispose Che diamine, ci siamo visti, ci siamo parlati Vuoi che non mi abbia riconosciuto Poi si fece mesto e soggiunse Il diavolo è brutto Ma lo avevano ridotto più brutto del diavolo E poi concluse Ricordati di pregare per questo grande confessore della fede Che ha sofferto tanto per la chiesa Ecco, immagino che questa sia una statua La statua di Minzenti che è stata posta davanti al carcere Nel quale lui ha sofferto E ha sofferto tanto Come ci attesta Padre Pio Che lo ha visto sfigurato quasi Dalle torture che il regime comunista Ha inferto a questo primate dell'Ungheria Però abbiamo un'altra cosa che ci lega a questa storia Un'altra opera d'arte Che è riportata nella rampa Che poi ci accompagna Alla cripta di San Pio da Pietrelcina Realizzata da Rupnik Quindi i pellegrini che verranno a San Giovanni Rotondo Ricordandosi di questo episodio Potranno collegarlo a questa immagine Eh sì, vediamo anche qui Padre Pio che porta al Cardinal Minzenti Il pane e il vino per celebrare l'Eucaristia Minzenti ha questa sorta di stola Che sicuramente non ha usato per celebrare Visto che non aveva neppure il necessario E poi c'è un numero 1956 Che è stato l'anno della liberazione di Minzenti Dopo la fine del regime Bene, grazie per questa parentesi di storia Vorrei anche ricordare un'altra cosa Stefano Oggi è 14 giugno Apriamo questa settimana Nuova settimana del nostro appuntamento E poi avremo modo anche di parlarne nei prossimi giorni Una settimana importante perché era giugno del 2002 Quando fervevano i preparativi sia a San Giovanni Rotondo Che a Roma per la canonizzazione di Padre Pio Quindi questa anche un po' la settimana Sarà la settimana del ricordo di quasi 20 anni L'anno prossimo saranno 20 anni della canonizzazione di Padre Pio E nel nostro appuntamento avremo modo di ricordare questo Eri già direttore di Padre Pio TV? Di Teleradio Padre Pio Che non esisteva ancora Padre Pio TV Ma Teleradio Padre Pio, l'emittente locale sì Eri già direttore Quindi poi ti chiederemo i ricordi Di quei momenti davvero indimenticabili Per ciascuno di noi Bene, grazie al direttore Stefano Campanella Per essere stato con noi E intanto voglio ricordarvi Che è possibile inviare le foto Dei vostri pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo Scrivendo all'indirizzo di posta elettronica Info, chiocciola, teleradiopadrepio.it E anche oggi vogliamo andare ad aprire I cassetti dei ricordi Dei tanti che hanno conosciuto Padre Pio Ma anche di persone che hanno sentito raccontare Di Padre Pio dai loro familiari, dai nonni e dagli zii Siamo andati a prendere uno stralcio Della testimonianza di Pio Mizzau Che racconta come sua nonna ha conosciuto Padre Pio Era la sua testimonianza di Pio Mizzau Settembre del 2017 Ascoltiamo Mia nonna ebbe la possibilità Attraverso un'amica di conoscere Di sentire, anzi di essere incuriosita Dalle notizie che le arrivavano Su questa figura enigmatica E l'essere un libricino Che se non erro lo chiamava il santo del meridione Immediatamente incuriosita chiese al mio nome Di accompagnarla a San Giovanni Rotondo Per farla breve vennero talmente tante volte Loro vivevano a Bolzano Piccolo particolare E vennero talmente tante volte Che erano intenzionati a trasferirsi Mia mamma che era la prima dei figli All'epoca ventenne Bolzanina Una mentalità internazionale Abituata alla musica, all'arte, a viaggiare All'idea di un possibile e probabile Trasferimento in questo luogo Che oggi è un luogo di accoglienza Ma all'epoca, come tu prima hai accennato Era un borgo di persone Su di un terreno Aspro, duro Quindi per un giovane di vent'anni Non era l'ideale pensare di trasferirsi Tanto che poi Padre Pio La confortò La confortò e addirittura Le fece un dono Che poi dopo se vorrete potremmo raccontare Che le fece cambiare idea Perché loro erano abituati Tutte le festività ad andare Avevano la casa in montagna Poi fortunatamente vivevano di rendita Quindi non avevano problemi particolari Ecco perché tanti viaggi La possibilità di muoversi E andarsi a rinchiudere Quasi monacalmente in un luogo Senza nessuna apparente via di uscita Era quasi una mortificazione per lei Conobbe poi mio papà Si conobbero Si conobbero qui a San Giovanni Rotondo Si conobbero a San Giovanni Rotondo Anche perché all'epoca La zona del convento era staccata dal paese E quindi i curiosi I sofferenti Tutte le persone che hanno la ricerca Odiano di una risposta Di un conforto Arrivati qui vicino al santuario Alloggiavano in due alberghi Che vi erano all'epoca E poi non vi era nulla Quindi la cosa anche molto bella Nella scarsità di strutture ricettive Vi era una sorta di fratellanza Nel comunicare Nel confrontarsi E soprattutto nel suggerirsi a vicenda Quello che erano le esperienze personali Che ognuno a turno Seguendo l'ordine numerico delle confessioni Avesse già provato E quindi tra tutti questi giovani Si creava una sorta di comunanza Ecco di già figliolanza Rispetto alla figura di padre Pio E quello a sinistra L'unico laico è il mio nonno materno E Aurelio Montalto Il quale se può È una nota che ho saputo anche da poco tempo Negli ultimi tempi Da Bolzano Ogni weekend Scendeva dal giovedì alla domenica A San Giovanni Rotondo Per realizzare con le proprie mani Su ricetta di una nobile fiorentina Che gli aveva effettuato questo passaggio di consegni Il budino per padre Pio Questo potrebbe essere Considerato i tempi che viviamo oggi Quasi una follia Allora delle due l'una O erano tutti folli O noi oggi non abbiamo capito nulla Perché giustamente anch'io Appena ho saputo di questa azione Quasi eroica Perché con i mezzi di trasporto dell'epoca Ogni weekend Bolzano San Giovanni Rotondo Andate e ritorno E che bella questa testimonianza Ringraziamo Pio Mizzau Ospite nei nostri studi Durante i giorni dedicati alla novena A San Pio Settembre 2017 Poi ascolteremo anche nei prossimi giorni Altri stralci di testimonianze Di storie Legate alla presenza Nella propria vita Nella vita della propria famiglia Del santo di Pietrelcina Lo ricordavo prima Con il nostro direttore Stefano Campanella È una settimana importante Anche perché andremo davvero a prendere Degli stralci Di storie E di fatti Legati a quel 16 giugno Del 2002 Roma San Giovanni Rotondo La canonizzazione del santo di Pietrelcina E a proposito di Santi Oggi la chiesa ricorda Rufino e Valerio Secondo una leggendaria relazione Del loro martirio Vissero nel IV secolo Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano Erano magazzinieri Ferventi cristiani Ed apostoli del Vangelo Tale zelo così profuso Procurò l'odio del capo Barbaro Deciso ad eliminarli Giunse a Basos Ma i due cristiani Saputolo per tempo Erano fuggiti Rifugiandosi in una grotta Nei dintorni Ma una volta scoperti Vennero decapitati E i loro corpi Gettati nel fiume Vesle Pur essendo sconosciuta La data della loro morte Essa deve posizionarsi All'inizio del IV secolo Le reliquie Sono deposte attualmente Nella cattedrale di Soissons E tra i fatti del giorno Tra l'accadde oggi Abbiamo ricordato in apertura La messa che è stata celebrata Sabato scorso a Budapest Appunto anche il ricordo Della bilocazione del Santo di Pietrelcina Ma oggi E lo anticipava la collega Anna Maria Salvemini Nel primo collegamento 14 giugno Si celebra la giornata mondiale Del donatore di sangue Istituita nel 2004 Dall'Organizzazione Mondiale Della Sanità In concomitanza Con l'anniversario della nascita Di Carl Landsteiner Scopritore dei gruppi sanguigni Bene Questo è l'accadde oggi del giorno Torneremo anche più tardi A parlare di questo Dell'importanza anche Di donare il sangue Intanto sono quasi le 11 in punto Vi ricordo Nuovamente il nostro indirizzo Di posta elettronica Info Chiocciola Da quale paese Da quale città Giunge la foto di oggi Intanto Guardate qui Segnatevi questo indirizzo Di posta elettronica Info Chiocciola Teleradio Padre Pio Punto it Inviate la foto Del vostro pellegrinaggio Saremo poi felici Di poterla condividere Con i nostri telespettatori Detto questo Ci fermiamo qualche istante Facciamo una brevissima Pausa pubblicitaria E poi torneremo ancora insieme Con il nostro tempo d'estate State con noi Pausa breve Come promesso E intanto Siamo pronti Per tornare A collegarci Con la chiesa Di San Pio Da Pietrelcina Lo abbiamo fatto Per i saluti iniziali E lì pronta La collega Anna Maria Con un ospite Perché oggi Parliamo Della giornata mondiale Dedicata Al donatore Ai donatori di sangue Che fortunatamente Sono tanti del mondo A te Anna Maria Presentaci il tuo ospite Grazie Paola Dona il sangue E fai pulsare Il mondo Questo è lo slogan Scelto per il 2021 Siamo in estate C'è carenza Di sangue Perché alcuni Vanno in vacanza Alcuni donatori Quindi passa in secondo piano Questa bellissima azione Questo bellissimo gesto Questo grande dono Però noi vogliamo Sponsorizzare un po' Attraverso questa giornata Quindi cogliere questa occasione E invitare i tanti giovani Che evidentemente Hanno un cuore grande Quindi vogliamo farlo emergere Con me il dottor Con me il dottor Di Mauro Che è primario del centro Trasfusionale di casa Sollievo della sofferenza Qui di San Giovanni Rotondo Ben trovato dottore Buongiorno Vestito da eroe No vestito Mi sembra importante Far mostrare anche la divisa Con cui operiamo No io volevo aggiungere Non solo i giovani Ma anche quelli Un po' meno giovani Che possono ancora Che sono chiaramente In età donazionale Certo Noi insomma Diamo anche per scontato Che lo facciano già E questo ce lo ospitiamo Allora C'è questo sangue A cosa serve Partiamo proprio Dalle domande base Dalle curiosità Che tutti potrebbero avere Qui ci segue da casa Magari dice Ecco io vado a donare Ma quanto dura questo sangue Scade C'è possibilità di donarlo Quante volte l'anno Allora Cominciamo Si può donare Quattro volte l'anno Gli uomini Quattro volte l'anno Le donne Due volte l'anno A distanza di tre mesi L'uno Da una reazione all'altra Le donne in età fertile Quindi due volte l'anno Gli uomini Quattro volte l'anno Chiaramente Anche questa Questa Quanto sto dicendo Due volte Quattro volte Dipende anche dalle condizioni Del donatore Quindi non sono delle regole Estremamente fisse Si può Non è che si deve Per cui Un donatore Può anche decidere Autonomamente Di donare due volte l'anno E dona due volte l'anno Quanto dura Il sangue donato Dipende Dall'anticoagulante E dai conservanti Che vengono adoperati Per la donazione In media Siamo sui 40 giorni Dopo la donazione Però tutto il sangue Che noi doniamo Che viene raccolto Viene lavorato E noi abbiamo Almeno tre prodotti Che possiamo adoperare Che sono i globuli rossi Il plasma E una parte Delle piastrine Noi richiamiamo Bafficot Dal quale Bafficot Poi possiamo ricavare I congentrati piastrinici Per cui Noi abbiamo La possibilità Di soddisfare Le esigenze Trasfunzionali Di tre pazienti Diversi Da una singola donazione Il paziente Che è anemico Ha bisogno Di globuli rossi Il paziente Che è piastrinopenico Ha bisogno Di piastrine Il paziente Che ha problemi Di coagulazione Per cui C'è bisogno Di fattori Della coagulazione Che sono contenuti Nel plasma Noi A quel paziente Diamo il plasma Che in questo caso È un plasma Che noi chiamiamo Plasma fresco congelato Perché lo congeliamo Dopo qualche ora Dal prelievo Quanto durano I globuli rossi Era la domanda Che si Allora I globuli rossi Perché hanno una scadenza Anche perché Noi quando andiamo A prelevare Preleviamo i globuli rossi Che hanno una vita diversa Ci sono dei globuli rossi Che hanno Che sono appena nati E dei globuli rossi Che stanno già Nella loro Ciclo vitale Quasi finendo Per cui Un globulo rosso Dura 120 giorni Da quando nasce Dal midollo Però abbiamo I globuli rossi Di un giorno Ma anche quelli Di 120 giorni Per cui La possibilità Di trasfondere Sanche Che poi non sia più Efficiente Ed efficace Ecco noi Lo scongiuriamo Con una media Di conservazione Di questi 40-45 giorni Ricordo Un libro In cui C'era scritto Insomma E poi era stato usato Anche come spot In Australia Della Croce Rossa Australiana Il libro è Guida Galattica Per Autostoppisti C'era questo numero Ricorrente Il 42 Ed era la risposta Alle più grandi domande Della vita E dell'universo Un papà raccontava Questa storia Leggeva questo libro A suo figlio Ammalato Prima di addormentarsi Insomma Veniva fuori Questo 42 Poi si è scoperto Che erano i giorni Di vita Dei globuli rossi Ed era la risposta Anche A tutta Insomma Alle varie domande Dell'universo Quindi 42 giorni All'incirca E' stato molto tecnico Il nostro dottore Ovviamente è giusto Anche che sia così Visto il periodo Che abbiamo vissuto Che stiamo vivendo Ma ne stiamo uscendo fuori C'è stata una carenza In questo ultimo anno Di donatori Allora Noi siamo stati Possiamo dire Che siamo stati Anche abbastanza soddisfatti Di quello che è successo Nel 2020 In effetti Una carenza L'abbiamo registrata Però Una carenza Che non ha mai impedito E questo Grazie a Dio Che non ha mai impedito Di soddisfare L'esigenza trasfusionale Dei nostri pazienti E questo è stato È stato molto bello Perché nonostante Le paure Nonostante Sì I donatori avevano paura Di avvicinarsi agli ospedali Nonostante tutto questo Noi Siamo riusciti A garantire Tutti gli interventi Diciamo I nostri pazienti cronici Che hanno bisogno Di trasfusioni periodiche Hanno avuto puntualmente Il loro supporto trasfusionale E questo Insomma Ci ha resi Particolarmente felici Insomma Di avere Di essere stati in grado Di rispondere In maniera così tempestiva Insomma Ecco Nonostante La carenza Nonostante le paure Nonostante tutto Siamo stati in grado Di rispondere All'esigenza Trasfusionale Anna Maria Puoi chiedere Al dottor Di Mauro Che saluto Dagli studi Di San Giovanni Rotondo Se oggi Bisogna essere vaccinati Per donare il sangue Allora La collega in studio Chiede Paola Russo Che la saluta Tra l'altro Chiede se Oggi c'è bisogno Di essere Vaccinati Per donare il sangue No Paola No Non c'è bisogno E Non c'è bisogno Di essere vaccinati Per il covid No L'altra domanda Che si può fare Che forse Possiamo fare Anche adesso Posso dare la risposta Se uno ha fatto il vaccino Quanto tempo deve passare Per donare Dal vaccino Sono 48 ore Per tutti i vaccini Perfetto Per cui non c'è bisogno Che ci sia la vaccinazione È evidente Che Così come Nel primo momento Anche adesso Noi dobbiamo Dobbiamo avere E prendere Tutte le misure Precauzionali Per Per Garantire Il donatore E il ricevente Tutte le misure Precauzionali Dal lavaggio Delle mani Alla misurazione Della temperatura Alle domande Che sono anche Diciamo Molto più dettagliate Rispetto a quello Che poteva essere Qualche tempo fa Se In famiglia C'è stato un caso Negli ultimi tempi C'è un questionario Molto molto preciso A cui bisogna Voi che siete Donatori Posso dirlo Lo sapete E lo potete dire Anche voi No è vero Tra l'altro Dall'altra parte C'è qualcuno Che addirittura Ha le medaglie Che quante volte Ha donato Paola ha donato Non lo so Non diciamolo Perché deve essere Un gesto fatto Con il cuore Non dovrebbe essere Nemmeno preso Ecco in considerazione Però noi l'abbiamo Detto tra le righe Allora ovviamente Non c'è bisogno Della vaccinazione Per donare Ma ci sono delle misure Precauzionali Prima e dopo Il vaccino Nemmeno No A meno che Uno abbia fatto Il vaccino Non abbia Quella sindomatologia O qualche sindomatologia Che stiamo registrando Qualche Linea di febbre Qualche problema Particolare Allora In quel caso È chiaro Che deve passare Almeno una settimana Per poter donare Ok Allora Dottor Di Mauro Lei prima A telecamera è spente Quando ci stavamo Un po' organizzando E facendo due chiacchiere Ci ha detto anche che Non solo i donatori Vengono a donare Ma c'è anche la possibilità Di andare Da loro Quindi c'è possibilità Di viaggiare In questo caso Allora Diciamo che questa È una peculiarità Della nostra Della nostra struttura Grazie all'organizzazione Che Casa Sollievo Mette a disposizione Del servizio Trasfusionale Noi raccogliamo L'80% Del sangue All'esterno Dell'ospedale È solo il 20% All'interno Dell'ospedale Io faccio Così La considerazione Noi siamo Su un cucuzzolo Di montagna È vero Che la gente Può arrivare Però C'è una difficoltà Logistica Noi arriviamo A Peschici Arriviamo Ecco l'altro giorno Siamo andati anche A Celignola A Orta Nova Ci sono dei viaggi Allora Se un donatore Deve fare due ore Di viaggio Per venire a donare Io penso Che la volontà Gli passa La voglia Di donare Per cui Noi abbiamo Un'organizzazione Veramente capillare Organizziamo All'esterno Dell'ospedale Più di 400 Raccolte Che ci garantiscono Come dicevo prima L'80% Del sangue Che noi Dobbiamo avere A disposizione Per i nostri pazienti Considerando Che mediamente Io mi riferisco Chiaramente I dati del 2019 Non quelle del 2020 Noi abbiamo Una necessità Di circa 13.000 unità Di sangue Ecco Noi L'80% Di questi 13.000 Flaconi Unità di sangue Li raccogliamo All'esterno E abbiamo Una Serviamo Le associazioni Che poi collaborano Con noi Sono l'Avis La Fratres E la Fidas Per cui Se non avessimo Questa organizzazione Così capillare Eh vabbè Sarebbe molto complicato Garantire il sangue Per i nostri pazienti Anche questa stagione Forse Porta un po' A un numero ridotto Di donatori La bella stagione Ormai Insomma Si è stanchi Per il lavoro fatto Si ha bisogno Di riposarsi Però ecco Non dimenticate Questo grande gesto A proposito Di grandi gesti C'è una bella storia La storia di Giovanni Che ci vuole raccontare In maniera Sintetica Vero? Sì 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 Sintetica Abbiamo È una storia bella Una storia Che è finita Veramente In maniera Bella 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 Un paziente Con una Giovanni Con una patologia Particolare Una patologia Anche piuttosto Lara Si chiama Moscovitz Porpora Trombotica Trombocitopenica Vabbè Questa è la Traduzione Un po' In italiano Cioè Alla fin dei conti Questa patologia Che cosa Che cosa Che cosa Succede Per questa Se uno Purtroppo viene colpito Da questa Da questa Sindrome Le piastrine Che noi abbiamo In circolo Si aggregano Nei piccoli vasi E possono dare Delle occlusioni A livello Dei piccoli vasi Degli organi Come il rene Come il cervello E così via Questo paziente Che è stato ricoverato Per questa patologia Ha avuto Delle ricadute Continue Noi dobbiamo fare Uno scambio Di plasma Si chiama Plasma exchange Dobbiamo cambiare Il plasma Continuamente Fin quando I parametri Non si normalizzano Allora Questo paziente Per questo paziente Sembrava che i parametri Piano piano Andavano Alla normalità Poi ricadeva Poi ricadeva Poi ricadeva Al punto tale Che è stato ricoverato Anche in rianimazione Intubato Con una patologia Serissima Abbiamo continuato A fare plasma exchange Di continuo C'è stata necessità Di più di 400 unità Di plasma Per questo paziente Giovanni Adesso sta bene Grazie A tutti questi donatori Che hanno Non lo sapeva Nessuno sapeva Che si donava il plasma Perché noi il plasma Lo ricaviamo poi Dalle donazioni di sangue Normali Ma Giovanni Adesso sta bene Bella notizia Una bellissima storia Dottore Noi siamo qui Tutti i giorni Tutta l'estate A quest'ora Più o meno Ci trovate qua Potete venire A raccontarci Le belle storie Le storie di speranza Delle persone Che ce la fanno Ecco Ad uscire Da un ospedale Perché Ormai è una paura Che prende un po' tutti Ti coglio un po' tutti Questa Immagino Me ne siate accorti Anche voi Certo Certo Sì sì Ma c'è paura C'è proprio terrore Adesso In ospedale Chi deve venire in ospedale Ha paura di entrare Però Non c'è solo il covid Come ho detto prima Noi abbiamo necessità Di avere Sangue Ne abbiamo necessità Di avere tanto di sangue Perché abbiamo I pazienti cronici Che dobbiamo Abbiamo i pazienti Talassemici Che hanno bisogno Ogni 20-25 giorni Di avere la loro Trasfusione Abbiamo i pazienti Dell'ematologia Dell'oncologia Abbiamo i pazienti Della cardiochirurgia Che Per i quali ci sono Interventi Che Per i quali interventi C'è bisogno Di parecchio sangue Non scordiamoci Che i pazienti Purtroppo Non vanno in vacanza Noi sì Però Io sono ottimista Come è successo Negli altri anni I nostri donatori Posso aggiungere una cosa Che poi Seguono anche L'indicazione Di Sampio Non si scorderanno Di venire Di dare una mano Ai nostri pazienti Bella conclusione Ecco Anche il riferimento A Sampio Ovviamente Non vanno purtroppo In vacanza Le malattie Ma non va nemmeno In vacanza La grazia di Dio E così Anche tutti i medici Che lavorano Per ridare la vita E tanti segni di speranza Dottor Di Mauro Grazie Grazie di cuore Noi lo aspettiamo qui Fino ad agosto In ultrato Settembre Grazie a voi E noi stiamo lì Allora andate a donare Il sangue Potete compiere Questo grande gesto D'amore Grazie al dottor Di Mauro A te Paola Grazie Grazie a entrambi Per questo importante E interessante collegamento Ha detto bene La collega Anna Maria Saremo qui tutta l'estate Da lunedì al sabato E quindi sia le storie positive Che arrivano dall'ospedale Di Padre Pio Ma anche storie Testimonianze Di gratitudine Raccontateci il vostro Pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Se siete in procinto Di arrivare Abbiamo diversi modi Per entrare in contatto Avete diversi modi Per entrare in contatto Con noi Vi ricordo Info Del vostro Pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Ma vi ricordo Anche Che c'è La nostra Grazie a Pia Sempre pronta A rispondere Alle vostre telefonate 0882 4183 80 Un numero Che molti conoscono bene Quindi Chiamateci Parlate con lei E quindi Anche per raccontarci Le vostre storie Poi troverà Il modo Per cercare Ecco Di Fare Fare in modo Che la vostra storia Diventi anche Un piccolo spazio Nel nostro contenitore Quotidiano Tempo d'estate Tutti i giorni In diretta Dalle 10.45 Alle 11.15 Avete visto anche Con collegamenti Dalla chiesa Di San Pio Da Pietrelcina Prima che dimentichi Questo Vorrei salutare Un'amica Che ha mandato Un messaggio Su Facebook Lei si chiama Deborah La ringrazio Davvero per la stima E per le belle parole Che ha espresso Nei confronti Di tutti quanti Noi Della redazione Di Padre Pio TV Detto questo Abbiamo ancora tempo Per vedere La foto Che La foto Ricordo Del vostro Pellerinaggio A San Giovanni Rotondo Arriva Dal gruppo Di preghiera Di Cerro Maggiore Provincia Di Milano Una foto La vedete Del 2013 Riconosciamo Fra Carlo Laborde E alle spalle Di questo gruppo La foto è stata scattata Davanti al monastero Delle Clarisse Cappuccina San Giovanni Rotondo Un po' distante Un po' distante dal santuario Di Padre Pio Ma davvero Un luogo Di grande Tranquillità E serenità Ringrazio Il capogruppo Maria Rosa Foderaro Per aver avuto Il tempo Di inviarci Questa foto E di condividerla Davvero Con i nostri amici Telespettatori Dunque Approfittiamo Per salutare Il gruppo Di preghiera Cerro Maggiore In provincia Di Milano Ricordandovi Anche Info Chiocciola Teleradiopadrepio.it Inviateci La foto Ricordo Del vostro Pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Di gruppo Di famiglia Perché no Anche singola Se siete venuti Da soli In pellegrinaggio A vedere E a visitare I luoghi legati Al santo Di Pietrelcina Bene Detto questo Ci fermiamo Ancora Questa volta Una pausa Un po' più lunga Perché poi Vi ricordo Ci collegheremo Alle 11.30 Con la chiesa Di San Pio Forse anche Qualche secondo Prima Per partecipare Insieme Alla Santa Messa E quindi Rimanete con noi E rimanete in compagnia Di Padre Pio TV Anche se la pausa È un po' più lunga Però non cambiate Canale Rimanete con noi Con Tempo d'estate Con Tempo d'estate Un po' più lunga Un po' più lunga Un po' più lunga Un po' più lunga